Buongiorno a tutti e bentrovati all'Italian InsurTech Summit. Sono molto contento di essere qui a rappresentare Innovap, la principale associazione che rappresenta l'ecosistema italiano dell'innovazione. Innovap nasce col nome di Italia Startup nel 2012 per volontà dell'allora ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, contestualmente alla nascita della normativa sulle start-up innovative. Dopo alterne vicende Italia Startup si fonda a settembre 2020 con APSTI, l'associazione dei parchi scientifici e tecnologici e da questa fusione nasce Innovap. L'associazione oggi conta circa 400 soci che sono suddivisi in cinque categorie associative. La maggior parte sono Startup e Scale-up, ma abbiamo anche quasi tutti i centri di innovazione italiani associati, quindi incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici. Poi c'è la categoria degli abilitatori e la categoria delle corporate, aziende che sono interessate ad esplorare e ad approfondire le dinamiche dell'ecosistema dell'innovazione. Noi rappresentiamo tutti i settori e tutte le aree del nostro paese e questo ci rende un'associazione trasversale che collabora con le altre associazioni, tra cui Italian InsurTech, che oggi ci ha invitato a presenziare in questo importante evento. Oggi siamo qui per dare una panoramica dell'ecosistema italiano dell'innovazione e questa panoramica non può che partire dai dati. Dati che sono certamente positivi, perché come potete vedere gli investimenti in Startup innovative sono raddoppiati tra il 2020 e il 2021. Abbiamo superato finalmente la soglia psicologica del miliardo di euro di investimenti in VC e siamo arrivati quasi a un miliardo e mezzo rispetto ai 700 milioni circa del 2020. Questo è un risultato ancora più straordinario se pensiamo che tra il 2020 e il 2021 c'è stata una pandemia globale che ha indebolito quasi tutte le economie internazionali. Perché è stato possibile raggiungere questo risultato? Per due motivi essenzialmente. Da una parte per il consolidamento dei fondi di Venture Capital e uno sviluppo della cultura in termini di investimenti in VC. Dall'altra sicuramente per l'ingresso di CDP Venture Capital, il Fondo Nazionale Innovazione nell'economia italiana. Questo fondo è stato fortemente voluto dal governo e con una dotazione di oltre due miliardi di euro ha iniziato a investire per sviluppare il mercato del Venture Capital, sia attraverso fondi di fondi, sia attraverso investimenti diretti Startup, sia attraverso lo sviluppo del Corporate Venture Capital. È fondamentale che CDP Venture continui il suo lavoro per superare il fallimento di mercato che contraddistingueva il mercato del Venture Capital italiano e creare un circolo virtuoso che permetta a questo segmento di autosostenersi e autofinanziarsi. Per questo motivo riteniamo che il prossimo governo dovrà sicuramente investire nuove risorse per rafforzare questi strumenti e rafforzare CDP Venture. Tuttavia se guardiamo a livello internazionale lo scenario non è sicuramente dei migliori. Infatti l'Italia, sebbene sia la quarta economia europea, è solo la dodicesima per investimenti di Venture Capital e questo è ancora peggio se ci confrontiamo con gli altri paesi in termini di investimenti pro capite. Soprattutto rispetto a economie paragonabili alla nostra, Spagna, Francia, Germania, abbiamo un gap strutturale molto importante che è fondamentale che venga recuperato, senza scomodare il gap che abbiamo rispetto ai best case internazionali come UK, USA e Israele. Questa cosa può essere superata grazie anche agli investimenti di Corporate Venture Capital, un tema che sta molto a cuore all'associazione e su cui da diversi anni, ormai da sette anni, abbiamo un osservatorio. I dati dell'osservatorio sono certamente anche in questo caso positivi e in crescita e ci dimostrano come gli investimenti da parte delle aziende e start-up stiano aumentando. Tuttavia anche in questo caso subiamo un gap strutturale rispetto ai principali competitors europei. Basti pensare che in Germania delle prime 30 aziende quotate al DAX, uno dei principali indici borsistici tedeschi, 29 hanno un fondo strutturato di Corporate Venture Capital. Di contro in Italia, se guardiamo il Futsimib delle prime 40 aziende, solo 6, il 15% ha investimenti strutturati di CVC. Crediamo quindi che sia importantissimo che le aziende, soprattutto le più grandi, soprattutto le Corporate, ma anche le piccole e medie imprese italiane tipiche del nostro tessuto produttivo, investano in start-up e si innovino grazie alle collaborazioni con start-up. Per questo motivo chiediamo anche che siano rafforzati gli incentivi agli investimenti di questo tipo e tra tutti chiediamo che il credito di imposta ricerca e sviluppo venga sviluppato anche e applicato anche per gli investimenti start-up che nei fatti sono un investimento in ricerca e sviluppo ma esternalizzato. Tra tutti i settori sicuramente quello dell'insurtech può fare la sua parte insieme a quello del fintech per sviluppare il Corporate Venture Capital. In generale comunque abbiamo un outlook positivo sul futuro e vediamo anche che ci sono dei segnali positivi da questo punto di vista. ce li danno sia gli investimenti 2022 del primo semestre, che sono sicuramente in crescita rispetto al 2021, ma anche alcune ricerche europee come la mappa dei SiUnicorn, quindi dei prossimi unicorn a livello europeo. Da questo punto di vista in Italia c'è l'aspettativa di sei unicorni nel breve futuro che potranno essere creati e sviluppati. Uno in realtà si è già concretizzato, è ScalaPay, ma altri arriveranno presto. Per questo motivo siamo molto fiduciosi che il mercato delle start-up e il mercato degli investimenti in VC possano svilupparsi positivamente e crediamo che questo sia fondamentale non solo per il valore economico generato dagli unicorn, ma anche e soprattutto per i posti di lavoro che queste realtà generano. Infatti sono posti di lavoro altamente qualificati e sono l'occupazione del futuro. Per questo motivo crediamo che sia importante investire in questo settore e che sia importante che lo faccia sia il governo, sia i fondi di investimento, sia le corporate. E nel mare magnum dei vari settori quello dell'insurtech sicuramente è uno di quelli che più di tutti potrà fare la sua parte nello sviluppo dei SiUnicorn del futuro.